Parliamo di fondi pensione. Ho già fatto un video sui fondi pensione dove li descrivevo generalmente. In quel caso abbiamo parlato di fondi chiusi, fondi aperti, PIP, quindi le differenze tra i vari piani previdenziali che possiamo utilizzare per quanto riguarda la previdenza integrativa. Con il video di oggi vogliamo però rispondere a una domanda molto importante, ossia quanto dobbiamo versare all'interno dei fondi pensioni? Devo versare zero? Devo versare il TFR? Devo versare il TFR il contributo minimo? Devo massimizzare la soglia deducibile? Queste sono tante domande che potrebbero farsi tanti di voi, ossia non avrebbe senso dire io non metto nel fondo pensione perché sono giovane, o io massimizzo il fondo pensione perché andrò in pensione fra dieci anni, quindi ha senso massimizzare. Ha senso invece fare dei calcoli, fare delle analisi e cercare di capire nel caso della persona che sta analizzando se ha senso, quanto ha senso contribuire al fondo pensione. Per questo non esiste una risposta onivoca perché ogni caso avrà il suo tasso di contribuzione ottimale. Quindi da questo punto di vista purtroppo oggi non vi posso dare una ricetta, ma vi posso aiutare a calcolare il vostro tasso ottimale. Come? Andiamo a vedere lo schermo perché ho fatto un bel template con tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione. Ovviamente ci sono alcune complessità che non sono riuscito a gestire, quindi si dovrebbero gestire manualmente, però intanto credo che possa essere un grande aiuto per tanti e quindi andiamo a vedere il template. Allora, partiamo dicendo che l'unico posto dove in realtà ci sarà necessità da parte vostra di compilare è la pagina input. che vediamo che abbiamo alcune celle colorate e saranno tutte le celle che dovremo compilare. Ve ne parlo brevemente, cella dopo cella, e vi spiego perché ci sono anche altre celle. In realtà tutte queste gialle potevo metterle in una pagina separata, però ho cercato di mostrare il più apertamente possibile i vari calcoli che vengono fatti, anche per darvi informazioni che magari possono essere utili. Allora, partiamo dicendo che qua innanzitutto sulla destra abbiamo le aliquote IRPEF. Queste sono utili perché ci serve per capire fondamentalmente che percentuale di deduzione stiamo prendendo con il nostro fondo pensione. Ricordiamo che il fondo pensione è deducibile, quindi da questo punto di vista, se ci troviamo nell'aliquota 50 andremo a prenderci il 43% di deduzione. Se superiamo l'aliquota 50 e scendiamo sotto i 50, su una parte del versamento andremo a prenderci il 35%. E oltre a questo andremo ad abbassare il nostro reddito e quindi ci saranno vantaggi anche da un punto di vista di aliquote addizionali, regionali e comunali, per cui andremo a pagare meno tasse, e ci saranno anche detrazioni IRPEF maggiori che vengono calcolate in queste celle. Comunque, cosa c'è da mettere? RAL. Qua, molto chiaro, dovrete mettere la vostra RAL. Il rendimento atteso del fondo pensione chiuso. Qua è la parte più complessa e ovviamente più incerta dell'analisi, perché andare a calcolare un rendimento atteso di un fondo pensione aperto, chiuso, o un rendimento atteso alternativo, può essere complesso. Cosa si può utilizzare? Si può utilizzare dati storici, però attenzione, perché nei fondi pensioni molto spesso la componente sul mercato straniero è coperta, coperta per la valuta. Quindi attenzione al periodo storico che andiamo a prendere, perché se l'over performance è dettata, ad esempio, dal dollaro che ha fatto meglio dell'euro, chiaro, un investimento alternativo potrebbe aver fatto meglio, ma non è detto che il dollaro nei prossimi dieci anni continui a rafforzarsi rispetto all'euro. Quindi da questo punto di vista il fatto che ci sia la copertura all'euro porta questi strumenti a dover essere confrontati ad altri strumenti che hanno avuto copertura all'euro. E più prendiamo come orizzonte temporale meglio è, perché ovviamente ci dà esposizione a situazioni di mercato differenti, perché se guardiamo gli ultimi dieci anni tutto molto bene, se guardiamo gli ultimi vent'anni già è diverso. Comunque da questo punto di vista uno può inserire il rendimento atteso in termini di rendimento storico, oppure può guardare i documenti del suo fondo pensione, perché anche lì sono dati dei rendimenti attesi per ogni vario comparto, e così via. Stesso discorso per il fondo pensione aperto. Perché ho inserito fondo pensione chiuso e fondo pensione aperto? È importante considerare entrambi i casi, perché per quanto riguarda il fondo pensione aperto, abbiamo dei comparti che arrivano anche al 95% azionario, quindi per dei giovani il fatto di poter contribuire con dell'azionario può essere un vantaggio. Questo molto spesso a chi può essere utile. A chi ha già da giovane un reddito molto elevato, quindi ha senso prendere la deduzione fiscale, però allo stesso tempo non avrebbe senso investire in un portafoglio 60-40 che magari abbiamo in un fondo pensione chiuso. E quindi andiamo magari a contribuire al fondo pensione chiuso per il contributo del datore di lavoro e poi contribuiamo al fondo pensione aperto con i depositi aggiuntivi, oppure solo al fondo pensione aperto se c'è un vantaggio. Sono tutte cose che devono essere analizzate. Considerato il fatto che comunque se contribuiamo al fondo pensione aperto sappiamo che non abbiamo il contributo del datore di lavoro che abbiamo solo nel caso in cui si vada aderire al fondo pensione di categoria. Per queste differenze vi rimando di nuovo al video che avevo già fatto in cui parliamo del fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto e PIP. Fondo pensione chiuso e aperto possono avere senso, il PIP lo togliamo un pochino dal banco perché tendenzialmente è uno strumento assicurativo, tendenzialmente quindi ha dei costi più elevati e quindi sappiamo benissimo che i costi elevati sono da evitare. Il PIP può essere utile per chi è molto avverso al rischio, magari anche per chi si avvicina alla pensione e vuole piazzare un capitale, tra virgolette, garantito perché sappiamo che essendo una gestione assicurativa possiamo prendere la gestione separata e quindi avere una contabilizzazione diversa degli strumenti. Da questo punto di vista poi abbiamo bisogno di inserire l'inflazione attesa. Perché? Perché andando a mettere il TFR nel fondo pensione dobbiamo vedere quale potrebbe essere la rivalutazione del TFR che si calcola automaticamente data l'attesa che abbiamo sull'inflazione. Comunque qua di fianco ho lasciato i commenti, se passate con il mouse vedete che ho dato qualche commento per compilare tutto quanto. Prendendo andiamo a calcolare, dato la rail, l'aliquota IRPEF marginale perché l'avevo messa qua quindi ce la riconosce. Stesso discorso, andiamo a calcolare l'aliquota IRPEF media. Questa serve anche qua per la tassazione del TFR una volta terminato il rapporto lavorativo. Poi di nuovo scendendo abbiamo aliquota addizionale regionale e comunale. Anche queste sono da inserire perché ovviamente ogni regione comune ha aliquote differenti e quindi dovrete mettere le vostre aliquote. Dopodiché dobbiamo segnalare se siamo un lavoratore dipendente. Questo perché? Perché abbiamo le varie detrazioni che sono detrazioni solo per lavoratori dipendenti. Quindi se siamo autonomi mettiamo 0 e qua avremo 0 su tutto. Se siamo dipendenti mettiamo 1 in questo caso avevamo 55.000 quindi non abbiamo detrazioni ma se abbiamo 40.000 ci sono delle detrazioni. Quindi qua vado a calcolare le detrazioni pre-contribuzione le detrazioni dopo una contribuzione minima dopo la contribuzione extra impostata e la extra più la minima. E qua vediamo le differenze nel corso di un anno in termini di quanto ci resta in tasca in più in termini di detrazioni dopo la contribuzione al fondo pensione. Qua ci sono alcuni dettagli per chi è già iscritto al fondo pensione se lo vuole utilizzare per fare un'analisi complessiva quindi da quanto siamo iscritti questo serve per calcolare poi dopo l'imposizione fiscale gli anni del fondo pensione prima del riscatto cioè l'orizzonte temporale che ci aspettiamo di avere ad esempio qua ho impostato 40 anni ma potrebbe essere che siamo iscritti da 10 anni e abbiamo un orizzonte di 20 valore e posizione perché se siamo già iscritti possiamo dire che abbiamo già 10.000 euro di cui 8.000 erano contribuzione mentre 2.000 sono stati gain che è stato tassato il valore del TFR in azienda questo serve perché all'interno del file calcoliamo anche il vantaggio del trasferimento del TFR dall'azienda al fondo pensione questo è disponibile ovviamente solo se siete in una piccola azienda se il vostro TFR non è in azienda non potete trasferirlo di cui anche qua abbiamo rivalutazione quindi diremo dei 15.000 a 3.000 sono stati di rivalutazione del TFR abbiamo il contributo minimo questo lo trovate nel contratto collettivo come scrivo qua e poi abbiamo il contributo minimo del datore di lavoro e anche questo lo trovate nel contratto collettivo sul sito del vostro fondo pensione di categoria trovate questi dettagli dato il vostro contratto collettivo e poi una extra contribuzione che è una scelta personale e serve semplicemente per fare un'analisi del vantaggio nel fare la contribuzione comunque tendenzialmente se siamo dentro a un'aliquota quindi ad esempio 40.000 siamo anche con la contribuzione massima dentro a questa aliquota quindi cosa vuol dire questo? che se c'è il vantaggio per il 3% c'è il vantaggio nel massimizzare la contribuzione quindi anziché 3% poi avrà senso mettere la percentuale che vi permette di non superare la soglia deducibile quindi in questo momento abbiamo 2.500 euro di contribuzione magari se mettiamo 15% andiamo fuori quindi magari dovremmo mettere 8% un po' di brute force vabbè ci siamo avvicinati 4.500 e sopra abbiamo anche qua un calcolo che ti dice se i calcoli sono congrui perché perché era abbastanza complesso per me con tutte le feature che ho messo in questo file andare a calcolare anche il discorso se fossimo in un'aliquota a metà ossia se siamo a 30.000 oddio ho messo 3.000 30.000 avremo poi qua una situazione per cui andiamo a mettere in deduzione 3.300 cosa succede con 3.300 che parte dell'abbattimento del reddito va al di sotto dell'aliquota 3 e quindi una parte dell'analisi andrebbe fatta con l'aliquota 2 cosa che io non riesco a gestire quindi come andrebbe fatta tutta l'analisi analizziamo la parte fino a 2008 poi andiamo a cambiare la RAL e facciamo un'analisi per l'extra contribuzione che andiamo a fare sotto questa aliquota per vedere se c'è il vantaggio a contribuire so che è una complessità purtroppo fare un file che gestisse tutte queste cose era veramente tanto lavoro già questo ha richiesto tanto lavoro quindi mi raccomando di lasciare un like al video per supportarlo farlo vedere a più persone se avete amici parenti che potrebbero essere interessati in realtà questo dovrebbe interessare a praticamente tutti quindi vi consiglio di condividerlo perché tutti dovrebbero andare a vedere cosa gli conviene fare con il fondo pensione perché ci sono dei vantaggi importanti o perlomeno ha senso valutare se questi vantaggi vanno presi quindi da questo punto di vista andremo a vedere qual è il nostro TFR maturando questo è una cella fissa la tassazione del fondo pensione la vediamo dall'ansianità più gli anni di orizzonte temporale orizzonte temporale quindi vuol dire che noi ci aspettiamo di riscattarlo fra vent'anni e poi abbiamo i vari calcoli della contribuzione che sono semplicemente una moltiplicazione della RAL per queste percentuali e abbiamo spiegato la pagina degli input andiamo alla pagina successiva e qua abbiamo un calcolo complessivo cosa vuol dire? questa pagina in realtà ci dà una non risposta perché ci dice se iniziamo oggi per l'orizzonte temporale che abbiamo dato cosa ci conviene fare se prendiamo un'unica scelta ossia se voi siete completamente lesi volete prendere una scelta oggi e poi non pensarci assolutamente più dovremmo andare a vedere questa pagina e potremmo confrontare effettivamente a livello di netto cosa arriviamo ad avere nelle varie possibilità e cosa ci conviene di più qua semplicemente viene considerato che per una data contribuzione avremo una certa cifra all'interno del fondo pensione contro una certa cifra che alternativamente potremmo investire cioè se mettiamo 66 euro nel fondo pensione vuol dire che non possiamo investire 15 euro quindi capite che in questo caso c'è una bella differenza per cui il fondo pensione nel contributo minimo spesso dà un vantaggio però c'è un contro ossia il costo opportunità del tfr che resta bloccato nel fondo pensione chiuso e quindi un fondo pensione che non è totalmente azionario e questo è comunque una cosa da considerare ma l'andremo a vedere successivamente in generale qua vediamo che il fondo pensione ci dà un rendimento migliore rispetto all'azienda per i dati che abbiamo messo attenzione perché se andiamo a mettere un'inflazione attesa per i prossimi 20 anni del 6% magari il discorso cambia ovvio cioè sarebbe un'inflazione molto elevata però giusto per vedere l'azienda diventa più vantaggiosa rimettiamo 2% che avevo messo 2,5 comunque 2,5 2% lì sta molto alla preferenza se volete mettere qualcosa di un pochino più sicuro tra virgolette possiamo mettere 2,5 una cosa che non ho detto sui confronti ovviamente il fondo pensione chiuso può dare dei rendimenti leggermente più bassi ma ha una composizione molto più conservativa quindi è un'altra cosa da considerare se abbiamo necessità di prelevare soldi dal fondo pensione il fondo pensione può essere considerato in qualche modo anche un fondo di emergenza perché per grandi emergenze che possono essere emergenze mediche che possono essere spese di ristrutturazione spese per la prima casa e così via può essere utilizzato per dei prelievi e una volta che avete 8 anni di anzianità possono essere fatti prelievi fino al 30% del fondo pensione avevo fatto un video sul contodeposito sul fondo d'emergenza dove spiegavo che il fondo d'emergenza in realtà è un grande costo ha un grande costo opportunità per chi lo utilizza quindi tendenzialmente il fatto di avere un fondo pensione chiuso potrebbe essere utile perché abbiamo una composizione sicuramente meno aggressiva rispetto a un portafoglio che potremmo avere magari anche 100% azionario se siamo giovani e quindi se avessimo problemi 8 anni dopo aver iniziato il fondo pensione possiamo sempre dire ok ho i soldi nel fondo pensione è il mio fondo d'emergenza e anche se abbiamo 60-40 è qualcosa di leggermente più conservativo poi ovvio sta molto anche nella propensione al rischio tendenzialmente nella vita di una persona tenere bloccato un cuscinetto di liquidità può essere impegnativo e quindi anche se in un caso ci sarà la situazione per cui perdiamo effettivamente soldi nello sbloccare in un momento negativo per il mercato poi dopo c'è tutto il discorso appunto di costo opportunità della liquidità quindi considerare il fatto che avere anche un rendimento leggermente inferiore nel fondo pensione ci permette di avere qualche rischio in meno che poi dopo ci permette di rischiare di più da qualche altra parte oltre a questo quindi non parliamo di confronti perfetti se mettiamo qua il rendimento di un fondo pensione chiuso 60-40 qua un fondo pensione aperto 100% azionario e qua un rendimento atteso di quello che farei alternativamente quindi sarebbe investire 100% in azione ovvio che se io non sono propenso al rischio e voglio un portafoglio 100% in titoli di stato è molto più semplice fare un confronto perché dirò il rendimento se li metto qua il rendimento se li metto qua e il rendimento se li metto qua perché abbiamo composizioni quasi totalmente obbligazionarie nei tre casi e quindi riusciamo a confrontarli in modo più adeguato se invece siamo molto propensi al rischio dovremmo mettere un 60% qua perché tendenzialmente nei chiusi abbiamo un massimo 60% in alcuni casi arriviamo all'80% in altri casi siamo anche sotto al 60% e poi qua potremmo avere quasi il 100% e qua potremmo avere il 100% quindi non sono confronti perfetti come dicevamo comunque spiegata più o meno questa pagina spero sia stata abbastanza chiara ci sono vari dettagli ovviamente cioè qua abbiamo il controvalore nei vari casi e vediamo cioè il controvalore netto più elevato è la soluzione migliore però è una scelta totalmente lesi cioè prende una scelta oggi e la porta avanti all'infinito ora andiamo a vedere il vantaggio trasferimento tfr questa è una pagina dove semplicemente andiamo a vedere se ci conviene trasferire il tfr all'interno del fondo pensione negoziale il fondo pensione chiuso rispetto a lasciarlo in azienda nei casi di cui parlavamo prima quindi in questo caso abbiamo appunto convenienza nel portarlo perché ci dà diritto a una tassazione più bassa ovviamente lo vediamo qua nelle imposte e perché ci attendiamo che possa rendere qualcosa di più su un lungo orizzonte temporale anche qua facevano impazzire gli articoli di fine anno che dicevano di cotte e di crude contro i fondi pensione perché il tfr in azienda avrebbe reso molto di più è ovvio l'anno passato è stato un outlier l'inflazione così elevata sono situazioni che capitano e che ricapiteranno ma non è la normalità quindi se abbiamo qualche anno di inflazione elevata è ovvio che il tfr sarebbe meglio averlo in azienda però d'altro canto la maggior parte degli anni sarebbe meglio averlo fuori dall'azienda quindi da questo punto di vista c'è da considerare che se lo otteniamo nel fondo pensione abbiamo un grande vantaggio sulla tassazione se abbiamo una certa anzianità nel fondo pensione e poi abbiamo un vantaggio relativo al discorso che può essere investito e quindi possiamo tendenzialmente avere dei rendimenti e così via posizione pregressa questo ci serve perché è molto brutta da vedere ma semplicemente calcoliamo date le assumption iniziali quindi le nostre ipotesi iniziali quanto avremo della parte iniziale alla fine del nostro percorso di risparmio perché ci serve perché alla fine abbiamo un sommario con il montante finale e ovviamente anche il sommario è fatto con un'unica decisione cioè prendiamo una decisione oggi e la portiamo avanti all'infinito non all'infinito se non per la durata dell'orizzonte temporale che ci siamo dati eccoci qua qua arrivano le tabelle toste ossia ho fatto tre tabelle in cui andiamo a confrontare dall'anno zero fino agli anni che ci siamo dati in questo caso 20 ma potete vedere che se cambiamo qua da 20 anni di orizzonte temporale diamo 5 cambia tutta la tabella cioè ci fa i 5 anni o se gli diamo 30 anni oltre i 10 di partenza ci fa tutti i 30 anni ovviamente cambierà molto e adesso vediamo perché comunque qua ho analizzato separatamente perché è ovvio è necessario farlo separatamente il contributo minimo il tfr e il contributo extra perché queste tre cose separate perché dovremmo vedere ci conviene fare il contributo minimo se non ci conviene fare il contributo minimo ci conviene mettere il tfr nel fondo pensione se non ci conviene mettere il tfr nel fondo pensione vabbè in questo caso sicuramente non ci conviene il contributo extra però se ci conveniva però se ci conveniva il contributo minimo o ci conveniva il tfr valutare se ci conviene un contributo extra qua abbiamo alcune opzioni fondo pensione chiuso fondo pensione aperto alternativo più tfr fondo alternativo più tfr azienda cosa succede? qua metteremo il contributo lavoratore più datore e il tfr nel fondo pensione chiuso qua nel fondo pensione aperto ma ovviamente perdiamo il contributo del datore di lavoro qua nel fondo andremo a mettere il tfr ma investiremo alternativamente ad esempio nel mercato azionario quindi ci mettiamo solo il tfr aderiamo al fondo pensione ma ci mettiamo solo il tfr ovviamente anche qua non avremo contributi ossia il calcolo che abbiamo qua non è in realtà sui contributi ma è quello che non abbiamo messo tramite i contributi lo abbiamo investito da un'altra parte cosa ci ha reso perché ovviamente questi sono i risultati a scadenza del nostro orizzonte temporale qua siamo all'anno zero e quindi questo ci dice la contribuzione dell'anno zero nel giro di 30 anni quanto ci avrà dato? andiamo a calcolare contributi tfr le imposte finali abbiamo un totale e vediamo cosa ci conviene di più in questo caso abbiamo tre soluzioni molto simili che sono fondo pensione chiuso fondo pensione aperto alternativo più tfr fondo in questo caso avendo tre soluzioni simili per me è una non scelta perché il fondo pensione chiuso avrà molta meno volatilità dettata dal fatto che buona parte del rendimento è dato dai vantaggi da torre di lavoro e dal vantaggio fiscale che però abbiamo anche nel fondo pensione aperto quindi da questo punto di vista abbiamo molte più certezze quindi anche accettare qualche migliaia di euro in meno ma con più certezze ha senso sempre anche per il discorso costo opportunità faccio il fondo pensione chiuso posso utilizzarlo anche come fondo di emergenza perché passati otto anni possiamo già prelevare dal fondo un 30% questa è un'altra variabile che non è stata considerata nell'analisi in realtà quello che potremmo fare è aderire un fondo e dall'ottavo anno iniziare a depositare però in realtà prelevarne il 30% cioè noi ogni anno potremmo richiedere il 30% di prelievo dal fondo pensione quindi ovviamente ha una tassazione più elevata quindi dopo c'è da capire se c'è un vantaggio nel farlo però se andiamo ad abbattere un'aliquota mettiamo nel fondo pensione e poi preleviamo e qualcosa guadagniamo e quello che è prelevato potremmo investirlo alternativamente al di fuori del fondo pensione se è più vantaggio l'investimento alternativo questa sarebbe un'extra variabile è molto difficile non voglio Excel tener conto di questa cosa ma è una cosa che si può fare quindi anche qua vedremo all'anno 0 vedremo all'anno 1 vedremo all'anno 2 e così via se fossimo in una situazione per cui adesso andiamo a cambiare gli input e abbiamo magari 5 anni di storico e un orizzonte di 35 anni per vedere se ecco in questo caso avremmo più vantaggi nell'aderire magari a un fondo pensione aperto per metterci il TFR e contribuire attraverso un investimento alternativo attenzione per questa differenza resto dell'idea che potrebbe avere più senso magari già il fondo pensione chiuso ma magari ipotizziamo di voler fare questo ok e guardiamo e diciamo ok dall'anno 3 potrei voler fare il fondo pensione ok qua non cambia nulla perché poi dopo l'aliquota fiscale sarebbe la stessa ok diciamo che siamo a 0 quindi non abbiamo ancora contribuito anche se in realtà abbiamo messo dei dettagli qua quindi non avrebbe molto senso però vabbè non abbiamo ancora contribuito quindi di nuovo diciamo ok all'anno 3 vogliamo farlo perché andrebbe rivisto un attimo il calcolo cioè innanzitutto decidiamo che per i primi anno 0 anno 1 e dopo 2 anni andremo a investire alternativamente e metteremo il TFR in un fondo pensione dall'anno 3 dovremmo rifare il nostro calcolo perché dovremmo fare il nostro calcolo perché là tutto è calcolato con l'aliquota fiscale che avremmo su questo orizzonte temporale se facciamo 32 anni anziché 35 e l'aliquota diventa leggermente più elevata quindi potrebbe essere che ci sia meno vantaggio quindi andiamo a vedere con 32 vedete che si abbassa un pochino il vantaggio però magari decidiamo lo stesso di fare questo un'altra cosa da considerare infatti è se aderiamo prima al fondo pensione c'è anche da considerare il vantaggio relativo all'aliquota fiscale perché l'anzianità all'interno del fondo pensione ci dà diritto al riscatto a un'aliquota leggermente più bassa che oggi sembra poco ma se contribuiamo 30 anni nel fondo pensione può fare la differenza poi sui risultati finali di nuovo abbiamo visto tutte queste cose andiamo a vedere il tfr avessimo deciso di inserirli nel cioè di fare alternativo più tfr quale tfr ci conviene e qua semplicemente c'è un'analisi di cosa succederebbe con i vari tfr e queste sono considerazioni solo sul tfr attenzione di nuovo nel fondo pensione chiuso abbiamo altri vantaggi relativi al contributo del datore di lavoro e quindi qua se decidiamo di dare il contributo minimo abbiamo un confronto migliore il tfr è se decidiamo solo di mettere il tfr ovviamente il fondo pensione aperto sarà meglio una volta che abbiamo un'inflazione attesa abbastanza bassa se andiamo su un fondo pensione aperto che è più aggressivo del fondo pensione chiuso se andiamo su un fondo pensione aperto che è tanto aggressivo quanto il fondo pensione chiuso potremmo rimanere sul fondo pensione chiuso questo l'abbiamo driblato abbastanza rapidamente secondo me questo è relativamente semplice abbiamo poi il contributo extra perché il contributo extra è di nuovo tutta un'altra storia perché il contributo extra non ci dà il diritto al vantaggio del datore di lavoro cioè sì abbiamo già il vantaggio però non è che contribuendo di più abbiamo più vantaggio di contribuzione del datore di lavoro la contribuzione del datore sarà quella imposta dal contratto collettivo poi se noi contribuiamo di più c'è solo il vantaggio fiscale e il vantaggio delle detrazioni maggiori e il vantaggio della riduzione delle addizionali comunali e regionali anche qua vediamo che in questo caso con un grande orizzonte temporale spesso non c'è molto vantaggio soprattutto perché anche la ralla era relativamente bassa quindi da questo punto di vista abbiamo un vantaggio maggiore nell'investimento alternativo quindi tutto quello che non è contributo minimo lo andiamo a mettere nel fondo pensione come potrebbe cambiare un po' la storia proviamo a vedere se abbiamo un reddito superiore ipotizziamo 55.000 vediamo che andando oddio al contributo extra è cambiata un po' la storia il contributo extra ci converrebbe e ci converrebbe nel fondo pensione aperto perché abbiamo una ralla molto elevata quindi andiamo ad abbattere fiscalmente un certo numero di tasse e quindi diventa molto più sensato il fondo pensione chiuso diventa meno sensato perché come abbiamo detto magari ci possiamo attendere qualche rendimento in meno poi dopo dipende da come utilizziamo il fondo pensione a quanto ammonta totalmente quanto già abbiamo nel fondo pensione chiuso per i discorsi che facevo prima adesso non voglio ripetermi eccessivamente quindi anche qua è una cosa molto personale però questi effettivamente sono numeri ecco e anche qua mi sembra molto diretto cioè ovviamente le imposte finali sono maggiori nel fondo pensione alternativo perché nel fondo pensione chiuso aperto la tassazione sulle plusvalenze è fatta anno per anno e quindi l'ho già calcolata qua nel rendimento mentre qua abbiamo la tassazione finale perché ipotizziamo di prelevare tutto quanto e quindi ovviamente qua si ipotizza di prelevare tutto al termine del nostro orizzonte temporale perché se no è difficile relativamente difficile fare un confronto ecco quindi anche qua vedremo se ci conviene dall'anno zero se ci conviene invece dall'anno sette dovremmo iniziare diversamente e poi vedere dall'anno sette se ci conviene in realtà anzi prima di iniziare diversamente dovremmo ipotizzare di iniziare sette anni dopo e vedere lo svantaggio poi fiscale che abbiamo perché come dicevo prima abbiamo meno anzianità nel fondo pensione a meno che non abbiamo iniziato mettendo il tfr e quindi poi dopo ci porta ad avere dei costi superiori se non mettiamo nulla nel fondo pensione possiamo anche iscriverci e metterci 10 euro o 50 euro all'anno in questo modo maturiamo anzianità e poi dopo abbiamo una liquota più bassa quando andremo a utilizzarlo ecco in generale come dicevo ci sono anche altre casistiche ossia apro il fondo pensione e dal nono anno io ci continuo a mettere i soldi ma li prelevo anche per metterli in un investimento alternativo potrebbe esserci convenienza c'è convenienza non lo so bisognerebbe analizzarlo anche questo e manipolando un pochino il file potete utilizzarlo anche per queste casistiche diventa più complesso perché ovviamente sono delle cose un pochino particolari sappiate che la tassazione come dicevamo è più alta il 23% però se abbiamo un vantaggio nell'investimento alternativo potrebbe essere che facendo questo giochino mettiamo togliamo investiamo fuori abbiamo il vantaggio fiscale e così via c'è un po' di lavoro però può essere una strada abbiamo poi il sommario e vabbè qua ci dice che stiamo superando la soglia deducibile perché avevamo una cifra troppo elevata qua torniamo ai 30.000 che avevamo prima il sommario cosa ci dice cosa ci attendiamo alla scadenza cosa ci attendevamo alla scadenza se avessimo fatto tutto alternativamente senza l'utilizzo del fondo pensione qual è il vantaggio qua ci aggiunge la posizione iniziale a cui avevamo già contribuito come avevamo impostato prima e abbiamo un montante atteso perché abbiamo capitale preelevabile la rendita diventa obbligatoria se dal 70% del montante si ricava una rendita pari o superiore al 50% dell'assegno sociale ovviamente qua dipende quindi qua ci sono tante variabili ossia ci sarebbe da vedere l'assegno sociale a quanto arriva ogni anno vedere l'età del contribuente quando andiamo a prelevare e tutte queste cose per cui è difficile fare un'ipotesi allo stato attuale per darvi una rule of thumbs possiamo dire che se stiamo sotto i 100.000 probabilmente non abbiamo l'obbligo di avere il 50% sotto forma di rendita però se stiamo sopra i 100 potrebbe esserci il rischio poi se stiamo sopra i 150 c'è quasi la certezza se vogliamo avere tutto il capitale indietro e non vogliamo una rendita per buona parte del capitale bisogna giocare un pochino con i fondi pensione quindi cercare di prelevare dal fondo pensione utilizzando appunto quanto vi dicevo prima per non arrivare a una certa cifra si può aprire anche un fondo pensione aperto insieme al fondo pensione negoziale e così via cioè si possono fare tante cose permettetemi una piccola qua abbiamo un esempio per calcolare eventualmente la vostra rendita se voi siete interessati alla rendita potete andare sul sito del vostro fondo pensione o qua ho messo ad esempio un link e vedere più o meno cosa potreste aspettarvi di rendita dato un montante potete mettere il montante atteso da questa simulazione permettetevi di farvi un pochino di pubblicità io sono un consulente finanziario indipendente questo è il mio lavoro quindi è stato tantissimo lavoro fare questo file capisco che per qualcuno comunque ci siano delle complessità o sia difficile gestire tutte le variabili che ho inserito nel file per cui potete prenotare e trovate il link all'interno del file una chiamata con me per prendere la scelta migliore in questo momento o prendere una scelta definitiva per adesso andando in avanti fare alcune riflessioni sulla vostra situazione quindi prenotare una consulenza previdenziale ci sono i link senza impegno il file è completamente gratuito non ho intenzione di metterlo a pagamento anche se ci sono stati giorni 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 di lavoro per crearlo tutto quanto ma volevo metterlo a disposizione a tutti perché secondo me può dare una grande 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 mano come potete ricevere il file allora il file lo invierò a tutte le persone che si iscrivono alla mia mailing list tramite un link che lascio sotto in descrizione nei commenti non facciamo spam particolare vi scrivete anche alla newsletter dove mandiamo notizie settimanali ma potete cancellarvi in qualsiasi momento se non siete interessati per adesso non abbiamo automatizzato l'invio ve lo dico perché abbiamo già fatto altri template e poi persone mandavano dieci richieste perché non arrivavano noi almeno una volta alla settimana li mandiamo via quindi quando mandiamo la newsletter aspettatevi anche il template e quindi da questo punto di vista riceverete un link mi raccomando controllate la tab promozioni su gmail controllate la spam perché io purtroppo finisco spesso lì e vedevo anche dai dati dalle statistiche capitava sui template che qualcuno non aprisse neanche la mail dopo averlo richiesto quindi immagino che queste persone non abbiano visto la mail io li mando a tutti assolutamente controlliamo più volte la mailing list se ci scappa qualcosa non arriva una settimana arriva quella dopo ma sicuramente arriva e quindi se non l'avete ricevuto tranquillamente potete scrivermi anche in privato su instagram e chiedermi di inviarvelo però io lo mando a tutti lo mandiamo a tutti questo quindi mi raccomando link in basso mettete la vostra mail riceverete il template potete utilizzarlo per mettere i vostri dati ovviamente riceverete una mail solo per visualizzazione e ve lo condividerò per visualizzazione quindi perché? perché se no qualcuno potrebbe entrare e cambiarmi le formule anche questo mi capita poi mi viene fatta la richiesta di editing non vi posso dare la richiesta di editing su questo semplicemente dovrete entrare cliccare in file e creare una coppia all'interno del vostro drive e la coppia poi dopo quando è vostra è modificabile mi raccomando quindi entra crea una coppia e potete modificare quello che volete spero di avervi detto tutto quanto quindi utilizzate pure il template spero sia utile è una versione beta ossia l'ho appena messo fuori quindi se avete dei consigli se ci sono delle cose che secondo voi non vanno nel template e andrebbero modificate lasciatemi un commento qui sotto se volete ringraziarmi potete lasciare un commento e tutti i messaggi sono apprezzatissimi veramente c'è stato tanto lavoro su questo quindi vi chiedo di lasciare un like per supportare il video di girarlo a parenti e amici perché può essere utile se siete nuovi sul canale vi potete iscrivere per un sacco di contenuti utili come questo se ci sono domande comunque lasciatemi un commento qui sotto che io ogni tanto passo e rispondo a tutti vi ricordo come dicevo prima che ho già fatto un video sui fondi pensione in quest'altro video trattavo tutto l'argomento in modo più tecnico rispetto alla praticità di quest'ultimo video ve lo lascio qui alla destra vi consiglio di andarlo a vedere noi ci vediamo in un prossimo video alla prossima ciao a tutti ciao a tutti